Lo zero sulla casella dei nuovi contagi nella sesta provincia pugliese resta ben saldo. Nella BAT dal lunedì scorso c'è stato un solo caso di positività riferito ad una persona di Minervino. Sono invece 9 dal 1 maggio i casi riscontrati in provincia in 17 giorni, un dato che conferma la decisa decrescita del contagio, ma che nei numeri complessivi fa segnare 382 positività da inizio pandemia. Nel bollettino regionale del pomeriggio, tuttavia, sono stati inseriti anche 5 decessi registrati in provincia. Decessi riferiti a diversi giorni fa. Probabilmente c'è anche l'ultimo decesso in ordine di tempo. Si tratta di un'anziana paziente dodicesima, vittima ospitata all'interno della RSA San Giuseppe di Canusa di Puglia. I decessi nella BAT si attestano oltre quota 45. Buone notizie invece per quel che riguarda le guarigioni. Si svuota sensibilmente l'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie. Ieri il ritorno a casa di un paziente andriese dopo oltre 30 giorni di ricovero e circa 40 di malattia, mentre sono ben 4 le nuove guarigioni a Trani, 3 negativizzati che erano in isolamento domiciliare ed uno invece dimesso dall'ospedale Covid-19 della BAT. Restano 14 le attualmente positivi in città, di cui solo uno ricoverato, mentre altri 13 sono in isolamento domiciliare. Salgono a 10 infine i guariti e 6 purtroppo le persone decedute nella città di Trani.